Ragazzi, se perdiamo anche questa vuol dire che è la skin che fa sbocco Shaggy Super Saiyan, ha soldi in giro Ed era solo l'1% della sua potenza No, però ho visto il gameplay, mi aspettavo qualcosa in 3D di figo Invece è stile Broulalla, cioè, o Broulalla come si pronuncia Beh, gratis, ok, però mi aspettavo qualcosa di più graficamente Content, ma non abbastanza Mettiamola così Ogni quanto tempo si guadagnare punti, boh Tu guarda la live, è una roba automatica, non so quanto tempo La, bene i laser, regà, non posso scammare, dai per favore Va bene tutto Sì, salmon, però anche a vuoto Non c'è bisogno Non farti tentare Olly non c'è? Uh, molto goloso Mi piace il fatto che Olly non ci sia Speriamo che in finale ci sia una mappa bella Sicuramente se abbiamo i laser adesso In finale ci sarà una run Palese Sì, sarà una run 100-100 5 su 8 intanto Dai ragasù Dai ragasù Dai ragasù Dai ragasù 6 su 8 2 Fai di questo Fai di questo No, non muoiono 2 Ok, un Goloso Non c'è neanche Deluxe, è vero No, speriamo non c'è ancora un roll Dai, spero Paint Splash Se esce Paint Splash ti giuro che la vinco Chet Pronostici, regà, non li faccio ogni partita Pronostici Faccio ogni 3-4 tipo 2-3 Allora, qua regà Ci possiamo anche stare Però non devo scammare Per ora mi piace Anche se anche i miei amici qua Sono messi molto bene Potrebbe essere guloso E anche corposo Tutto ciò Dai zi Dai zi Dai zi Dai zi Mi piace Mi piace Ok, 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 ok Ci siamo, ci siamo, ci siamo Ci siamo Golloso Sì ragazzi Sì ragazzi Sì E te l'ho detto io senza Oliver Era una prassi proprio Bene, bene, bene E la prima di oggi è andata Io che non ho mai vinto nelle tue lobby Vai Minjax Devi crederci Devi crederci sempre Comunque se vinco io Che sono un bottazzo Potete vincere tutti La prassi è chiara Pronostico dopo Regà Con calma Non c'è fretta Ma già Si va Si vola Proprio noi Goloso 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 Ok, in teoria Se qua non facciamo scammate Contro i paletti E direi che scammate Non l'abbiamo fatta Quindi si passa La Pulito Cadiamo di sotto Oggi ho trovato Un speciale doppione 700 Eh la madonna Se trovi uno speciale doppione Ti danno 700 gettoni Sì Operina E con un leggendario doppione Quanti Quanti te ne dà Lo sapete Te ne dà 30 Vabbè pensavo di più C'è una differenza Bissarra Ok che speciale È molto più rara Però Solo 30 Veramente Ma che sbocco Cioè pensavo Almeno un centinaio Vabbè Pubblicità ogni santo secondo Magari bro Sennò dovrei guadagnare Mi milione Se si fossero Pubblicità ogni secondo Là Eh appunto 700 speciale 30 Una leggendaria Poco Madonna No c'è Olli Sì E fino Perentino Allora Olli Siamo io e te Cioè già lo sai Già lo sai Direi che Insomma no Il protocollo Si schiaros Ma sarà veramente Così chiaros Ma Matti reinstallando Stumbleguys Hai perso l'account Oppure ti è rimasto tutto Oh tra di loro Gli unici che conosco Sono Shark Che ha vinto diverse volte Boss pure ha vinto diverse volte Gli altri non li conosco Vabbè Oliver ovviamente Oliver Scontato Oliver è una bestia ragazzi Quindi Oliver caro Ti voglio bene Lo sai Però se arriviamo io e te Insomma no Quella è la prossima Oh oh La bet Dopo sta partita La faccio La 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 Goloso Goloso Corposo Succoso E ora Andiamo di qua Non mi piace Beggiamas 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 Oddio son vivo Dai Micho Però anche tu C'è nel senso Asciugamanino E Gatorade Oli Il protocollo Ale Grazie 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 Siamo due di fila Mio dio Aiuto Certo Fare 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 The win di fila Con voi A content Però La terza La terza Domani è pure il tuo compleanno Cristian Beh in effetti su 200 spettatori Ci sono 365 giorni l'anno Quindi ci sta che comunque Capito no Se io tipo avessi mille spettatori In teoria ogni giorno Mediamente Tre persone Dovrebbero fare Cioè che poi vabbè Sono mille che girerebbero Anche in quel caso Quindi sarebbero A rotazione Però minimo Tre quattro Fissi Fai di questo Qua fai di questo Ragazzi Giro che se vinciamo Questo è contenuto Nel dubbio Mi raccomando Venite live su twitch Voi che state guardando Il video Non ho tolto la stritta Gialla sopra Perché so già Che non vincerò Però se state Vedendo questo video Forse ho vinto Chi lo sa Ragazzi siamo su super slide Non posso scammare qua Se scammo Scammo qua adesso Proprio alla partenza Quindi faccio di questo E poi così Ok non l'ho scammato E la questione Mi gusta assai Qua posso farti di questo E poi di questo Io per assurdo Potrei si tagliare Infatti lo farò Quindi facciamo Molto banalmente così Molto banalmente Iii Oddio sto per cadere E poi facciamo così Guarda io per ora Vado abbastanza cillato Perché in teoria Non sai che c'è Nel dubbio Anche qua No anzi no Non taglio qua Dai va bene Visto che loro Non hanno tagliato Vado con calma anch'io Piuttosto vado qua Sulla destra Faccio i saltellini I saltellini Dicevo Per evitare di Capito no Che fai di questo Ed effettivamente Arrivi in finale Regà vi giuro Che se vinciamo È veramente molto content La questione Dal mio livello content In finale Ragazzi se vinciamo Tutto il proprio Trevi di filo Ok che nella seconda C'era Olli Che me l'ha lasciata Però comunque Ragazzi si fa Asciugamanino E Gatorade Chat Mi raccomando Per il video Già lo sapete Ma sto scherzando Ovviamente Ce la dobbiamo veridare Sta vittoria Forse coraggio Una scammata Sì ma solo una Sì vabbè questa qua È già Cosa Sì Ma sono stati tipo Usain Bolt A passare Se ho preso Gli spunto iniziali Ma scusami Eh niente ragazzi È andata A meno che non c'è Lo scam divino Di quelli davanti a me Ma la vedo Sì ma dai però Che scammata Ma come ho fatto A prendere gli spunto iniziali Non si sa ragazzi È un mistero Che probabilmente Oggi nessuno ha delle spiegazioni Eh niente Non vincerò mai Certo Sono stati colpiti Un po' tutti Però c'è quello là davanti Il mio clore È il soldatiro Con la cosa blu Purtroppo Ora non sono io Quel soldatiro Mannaggia Io ora non ho piuttosto Se proprio devi iniziarne uno Ti consiglierei Hunter Hunter Non Seven Deadly Sins Però comunque Anche quello è lungo Sono 130 episodi Tipo Per cui Insomma Cioè se guardi un episodio Al giorno Come dire È un po' così È un po' così Fede non vai a festeggiare in piazza Fanto se fossi un fan del Milan O anche sull'interessato al calcio Ma proprio il calcio Mi fega niente Vado a festeggiare Se vince anche quest'anno Caruso La Barney Gate Cup Al massimo Vabbè certo Death Note Devi finirlo Ma per forza Comunque Ma scusami Non sai già come finisce Death Note Con tutte le volte che TM Ha detto qualcosa In merito La 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 Ma com'è possibile Che senza tipsare Sono Già qua Ma c'è qualcosa di mistico Ragazzi Ma è giusto Oggi sto Olli Che Passerà Ed è giusto Però devo passare E niente Mi ha battuto Cossa Non passo No passo 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 Ma do il pelo Sono l'ultimo Ah sai già come finisci Ok No aspetta Dipende cosa intendi Per una certa persona Perché Vabbè Non ti dico chi muore Giusto per capire Se parliamo della stessa persona Ragazzi L'inizio è molto content Oh 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 Asciuga manino E Gatorade Dai ferro Pro Mannaggia a te Uh Goloso 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 È goloso Però Goloso 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 Merica Comunque Cioè Non dico che rosico Se Se vinco Però Insomma Considerando Un po Cioè ragazzi Ve l'ho fatto Tre vittorie Su quattro partite Nelle vostre lobby Che cosa sta succedendo Qua C'è qualcosa Che non torna Cioè Non torna Proprio Quella questione Che significa Sta cosa Sioperina Capisci anche tu Che insomma No Un mezzo content Effettivamente Ci potrebbe stare Vabbè